Good morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti! Come state? Come va? Allora, cosa mi raccontate? Sono le 7.09 in questo momento, giovedì 27 giugno. Siamo a due giorni dalla fine della nostra stagione. Oggi e domani, domani, last day of this year. Domani sarà non solo Thanks God is Friday, ma Thanks God is the last day. Comunque, voi invece come state? So che, insomma, sono da stessa anche un po' nervosi, perché intorno a voi più di uno cominciano a dire no, sai, da domani sono in ferie, dopo domani sono in ferie. Anche ieri sentivo qualcuno che mi diceva no, da tre ore sono in ferie, mi hanno detto, perché ieri sarei 18 e ho finito di lavorare. Insomma, gente che comunque sta andando in vacanza, già, insomma, quest'anno, già luglio, la città comincerà leggermente a svuotarsi. Ho idea che sarà un continuo, lento svuotamento per tutto l'estate e invece, magari, molti di voi devono rimanere qua a lavorare e continuare a fare le loro cose. C'è la sessione estiva degli esami dell'università. C'è chi sta affrontando, appunto, e anzi, Venditti ce l'ho ricordato proprio in apertura di trasmissione, chi sta affrontando la maturità in questi giorni. C'è, sono gli esami orali, alcuni finiscono già questa settimana, altri andranno avanti per la prima e, a volte, anche un pezzettino della seconda settimana di luglio. Insomma, tutto questo è quello che avviene fuori da questo studio e che potete raccontarci al 331-78-53-555. Questo è quanto. Implantiamo con un po' di musica e poi torniamo qua con i giornali, con Milano e tutto quello che vogliamo raccontarvi oggi, questa mattina, giovedì 27 giugno. Culture Club Karma Chameleon alle 7 e 14 minuti, qui su Cristiano Radio, Good Morning Milano. 27 giugno e, insomma, non si può, nonostante il clima di voglia di vacanze, nonostante la voglia di estate che ci accomuna tutti quanti, non possiamo non ricordare che il 27 giugno del 1980, quindi 44 anni fa, avvenne la strage di Ustica. Un momento importante anche perché, ricordiamo, che questa voglia di vacanza, questa voglia di estate accomuna noi quanto le 81 vittime della strage di Ustica, perché sì, era un volo che, ricordiamo, andava da Bologna a Palermo, quindi molti stavano andando, appunto, in vacanza, molti si stavano spostando sull'isola siciliana per passare le proprie vacanze e avvenne, invece, uno dei grandi misteri, che forse è un mistero non è più, d'Italia, insomma, l'abbattimento del 19 proprio sopra i cieli di Ustica, l'inabissamento del relitto, insomma, 81 vittime, le immagini tremende, la sera del telegiornale, la mattina dopo, dei corpi che galleggiavano sul mare, appunto, di Ustica, e soprattutto i 40 e passa anni di depistaggi e di indagini che seguirono poi alla strage, che non portarono mai, in realtà, adesso una verità sembra esserci, no, il famoso MIG libico sotto la pancia, colpito, sembrerebbe, da un missile sparato da un altrettanto MIG francese, o almeno questo è quello che poco tempo fa, e non tantissimo tempo fa, disse Giuliano Amato, secondo cui, appunto, dice quella è stata la verità, in realtà, la verità al momento è l'abbattimento da parte di un aereo non identificato in uno scenario di guerra aerea, però, cioè, quindi si sa che è stato abbattuto per errore, Amato, appunto, ha aggiunto la seconda parte, insomma, dando delle spiegazioni. Io vi consiglio due cose su Ustica, se volete approfondire, anche perché fanno capire bene un periodo anche dell'Italia e fanno capire bene come alcune situazioni poi si vanno a trascinare e diventano veramente una valanga che prende dentro tanto, tanto dell'Italia, tanto di noi altri, tanto della nostra cultura e i depistaggi, soprattutto, sono sempre dietro l'angolo. Due cose vi consiglio, un film, Il Muro di Gomma, un film del 1991, con la regia di Marco Risi, ma che è veramente, veramente interessante, fatto molto, molto bene, e poi, su tutti, ragazzi, c'è poco da fare, il Canto per Ustica, ITG Canto per Ustica del 2000, Paolini, è uno spettacolo teatrale, è uno spettacolo di teatro civico, così viene definito, molto, molto interessante, lo trovate anche sul sito di Rai Tech, gratuito, lo potete vedere, dura due ore, è la versione fatta live il 6 luglio del 2000 in piazza del Popolo, scusate, in piazza Maggiore, in piazza Maggiore a Bologna. Io, forse in voi, appunto, me lo guarderei perché oggi forse è il giorno giusto per ricordare un fatto del genere. Mi voglio immaginare, appunto, che magari chi stava partendo in quei giorni, chi stava in giro, pensate, non c'era ancora neanche il Walkman, perché il Walkman arriverà solo nell'estate dell'81 in Italia, quindi non c'era neanche la possibilità di ascoltare la musica così, pret-à-porter, diciamo, con la propria cassettina nelle proprie orecchie, ma c'erano le radioline, c'erano le radio, c'erano le radio che facevano passare la musica, la canzone italiana, i quali, beh, io vorrei immaginarmi che qualcuno spensieratamente non si accorse di nulla, perché magari stava ascoltando alla radio la canzone che andiamo ad ascoltare adesso, Viola Valentino con Comprami. Viola Valentino, Comprami, canzone che, appunto, uscì poco prima del 1979 e l'80, se non l'ho stata precisa, ma comunque uscì in quel periodo e quindi, appunto, volevo immaginarmi che, così, chi, le 81 vittime del volo Italia, del 19 Italia, con la sigla ITG, ricordiamo anche il titolo, appunto, dello spettacolo di Marco Paolini, magari qualcuno di loro, poco prima di salire sull'aereo o mentre in macchina andava all'aeroporto, così, si stava ascoltando una radio e, alla radio, passava Viola Valentino con Comprami. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, il nostro numero di WhatsApp, Alberto ci scrive un grosso ciao a tutti gli amici di Crystal Radio, a Fabio e a Elisa, ci mancherete, teniamo duro, ci mancano ancora un giorno, domani le lacrime, le lacrime domani. Elisa è già in botta, come si dice in questi casi, non la vedo già triste, ma Elisa, da oggi andiamo a prendere una brioche della crema, così ci tiriamo su un po' il morale, va bene, dai. Ieri sera, dice Alberto, tre ore per tornare a casa per via dello sciopero e dei mezzi pubblici. È vero, ieri è successo di tutto con la storia dello sciopero. Ieri sera, a un certo punto, dopo le 18, chiusa M1, M2, M3 ed M5, solo la M4 aperta. Quello che dico sempre io è che bisogna cominciare a imparare a girare la città anche con i mezzi di superficie, perché quei superfici prima o poi passano, cioè non vengono chiusi, quindi quelli lì prima o poi passano. Però devo dire che abbiamo visto delle scene dove veramente ce ne erano pochi, molto pochi, ed erano strapieni, anche i tram, le metro. Le ultime metro erano qualcosa dove saremmo dovuti andare a prendere a Tokyo quelli che ti spingono dentro la metropolitana giapponese per chiudere le porte, perché era una roba pazzesca, cioè c'era veramente da prestare dentro la gente che rischiavi che uscisse dal finestrino dall'altra parte. Scene infatti di esteria, come sempre, perché poi siamo bravissimi a gestire queste cose, che sembra che veramente sia sempre la fine del mondo. Io spero, perché un giorno arriverà la fine del mondo, in senso che vi do questa notizia, prima o poi un giorno arriverà la fine del mondo. Spero di non esserci, ma non tanto per la fine del mondo, che avevi tanto quel punto, ho finito tutto, ma per vedere le figuracce, l'isteria che abbiamo sempre quando dobbiamo gestire delle cose del genere. Siamo veramente incapaci di gestire tutto, tra parentesi, non era la fine del mondo, quindi c'è anche questo. L'altra sera, io a un certo punto ero martedì, non c'era neanche lo sciopero, non c'era lo sciopero, c'era semplicemente il concerto di Sfera e Basta a San Siro, mi sono trovato in piazza dell'otto intorno all'orario sbagliato, perché era quello in cui c'erano tutti quelli che stavano andando a lotto, avrei dovuto prendere la metropolitana che da lotto mi porta a San Siro, sapete l'ho fatto, ma sono fatto a piedi. 25 minuti, più o meno, di tratto a piedi e sono arrivato a casa, cioè nel senso, ora, l'otto di sera, sì, ero stanco, va bene, ma non si muore, cioè per farsi... Capisco che sicuramente qualcuno ieri aveva fretta di tornare a casa, ma di tutti quelli che dicevano di aver fretta, io vorrei capire la percentuale che realmente aveva fretta di tornare a casa, perché quello, capisco, però, insomma, è il prezzo di vivere a Milano. Oltretutto non sono ancora usciti i dati di adesione, ma così a vedere sembrerebbe molto alta l'adesione dello sciopero di ieri, cosa che non c'è stata invece negli ultimi, diciamo, tre sciopero. Quello del 6 maggio ha avuto un'adesione del 14%, quello del 26 aprile del 4,3%, quello del 22 marzo del 17,2%. L'ultimo sciopero, un po' così sostanzioso, e ce lo ricordiamo benissimo, 24 gennaio, 31% di adesione. Lì sì che c'era stato un po' di gente, per ora è stato il primo sopra il 20% da anni, nel senso che veramente bisogna andare indietro poi, trovare uno al 20%, appunto, nell'ottobre, novembre del 2023, ma poi si torna indietro fino al marzo dell'anno prima, insomma, insomma, il 2023 è un anno dove c'è stato migliaia di scioperi, trapperti sto guardando adesso. Vabbè, comunque, tanti scioperi ieri, c'è tanto sciopero ieri, quindi tanto traffico, oggi invece come va la giornata? Chiediamo a Luce Verde. Luce Verde, com'è il traffico? In Ugenea con Tiena a te e fa subito estate, devo dire, in Ugenea fanno veramente sempre estate, e infatti Nello ci scrive che bisogna ricordarci che in questo periodo bisogna bere molta acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde. Eh, ma il problema è trovare queste ore più calde, nel senso che non è che, cioè, stamattina ha ancora 19 gradi, cioè, nuvoloso, sole, ma ieri alla fine ha comunque più avviginato un po' lo stesso, ha dovuto comunque dare la sua spruzzatina, cioè, non è così facile, Nello. Ci piacerebbe dover evitare di uscire nelle ore più calde, ma in realtà non le abbiamo ancora trovate, queste ore calde. E invece grazie ad Adriana che ci scrive un buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a Cattè Adriana, e che ci dice quanto le piace, appunto, la canzone che abbiamo sentito poco fa, prima della pausa, sopra uno dei Foo Fighters con The Glass. Grazie Adriana, ringraziamo l'ufficio programmazione di Crystal Radio, come sempre. Invece voi, volevo sapere, per caso ce l'avete 40 milioni di euro? Così, se ce l'avete, potevate, ma ormai è andato via, comprare un palazzo in via Bagutta. Ebbene, si è stato venduto appunto questo palazzo in via Bagutta al 20 per 40 milioni, ma chi se l'è comprato? Ed ecco che Corriere della Serra racconta chi è il conte, che ha comprato per 40 milioni un palazzo in via Bagutta. guida un'utilitaria, sì, sembra che guida una macchina utilitaria, vola in economy, ok, ma ha più terre di re Carlo III. Il nuovo proprietario è Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo, che non so se è proprio perché ti sento che è di Vighignolo lui, o se è il padullo di Vighignolo, cioè come dire, di Vimodrone, c'è capito quelle robe lì, che nel Regno Unito possiede più terreni del re d'Inghilterra. Di origini milanesi, 69 anni, dopo l'università è volato a Londra per lavorare nel settore finanziario. Appunto il conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo ha messo le mani sul prestigioso immobile di via Bagutta 20 a due passi dal quadrilatero della moda. Contro valore dell'operazione oltre 40 milioni di euro. Il compromesso c'è stato firmato e il rogito, secondo fonti finanziarie, sarà dopo l'estate e andrà in vacanza, andrà al conte giustamente. Ma a fare notizia è lui, non tanto i 40 milioni per il palazzo, è lui perché è già socio di Montediso, Ferfin, Alerione, Moleskine. Secondo il Times, con il suo immenso patrimonio, controlla 12.000 ettari di terreno oltre alla tenuta confossato del XVI secolo in cui vive nel Norfolk e possiede più di 100.000 immobili. Ragazzi, io pensavo di essere ricco di famiglia io perché mio nonno aveva 4 box qui in Mianovara quindi pensavo forse 4. Aveva, perché poi è venuto di vendere se no poi finiva male. Comunque, eppure Padulli è famoso invece per la sua vita morigerata. Di lui cercano pochissime foto e si dice che voli in economy, vediamo, usi i mezzi pubblici e come macchina, pensate, a una vecchia Opel Corsa. Questo dice, appunto, racconta, racconta il Corriere della Sera dove racconta un po' chi è questo Conte Padulli, appunto, che insomma ci, ha appena comprato questa immensa villa, cioè questo immenso palazzo. Sono un palazzo di tanti piani, intanto, scusate qui, mi è partito un attimo Siri che fa cose strane sul computer dello studio. Diceva, no, appunto, il Via Bagutta 20, 40 milioni, ma appunto, quello che vi dicevo, non è tanto la notizia del fatto che lui sia straricco e che abbia potuto comprare questo palazzo per 40 milioni di euro, ma più che altro la sua vita morigerata. Pensate che nel 2017 vendette una collezione di antichi disini di maestri della pittura, tra cui Goia, Michelangelo, Rubens e Degas, e Degas, scusate, al Getty Museum, per oltre 100 milioni di dollari. 100 milioni di dollari, si compra due palazzi di Bagutta, con 100 milioni di dollari gli avanzano pure un po' di soldi. Ebbene, comunque, se voi per caso così vi avanzano un 40 milioni di dollari, di euro, possiamo pensare di comprarci qualcosa magari dalla parte di Montenapoleone, no? Emaneskin con 20 anni qui su Cristal Radio Good Morning Milano, grazie ai Whatsapp che state scrivendo al 33178 53555, ci scrive Erika che ci dice ciao Cristallini, il conte è straricco, ma ricordiamo che oggi è il 27 del mese ed è San Paganino e per molti arriva anche la quattrodicesima, per oggi, solo per oggi, siamo ricchi, è vero, oggi è il 27 del mese, San Paganino per molti e quindi anche con la quattrodicesima, quindi davvero magari potete dare l'acconto per la casa del conte di 40 milioni in via Bagutta, chissà, chissà. Parliamo sempre di case, vi va? Parliamo di case perché l'assessore alla casa del comune di Milano, l'attuale assessore alla casa Pier Francesco Maran, saluta Milano perché è arrivata la conferma della sua elezione al Parlamento Europeo, c'era da aspettare di conteggi, c'era da aspettare di capire cosa faceva Zan, si andava di qua o di là nelle circoscrizioni, quindi il primo dei non eletti è Pier Francesco Maran che quindi partirà alla volta di Strasburgo e quindi saluta Milano, appunto. L'assessore del PD ripescato come primo dei non eletti dopo che Zan ha optato per la circoscrizione Nord-Est lunedì, saluterà il Consiglio Comunale, ora al lavoro in Europa. L'addio di Maran a Milano, finalmente posso dirlo, sono stato letto al Parlamento Europeo e scatta quindi il mini rimpasto nella giunta Sala. Questo è quello che leggo dalla Repubblica Milano e appunto rimpasto, quindi chi andrà a fare l'assessore alla casa? Lo sappiamo, si chiama Guido Bardelli, ex presidente della Compagnia delle Opere, l'assessore scelto appunto da Sala. Un tecnico, un tecnico quindi che andrà a gestire gestione di alloggi popolari, housing sociali, grandi cantieri in periferie, il sindaco vuole affidare all'avvocato una missione di fine mandato. Compagnia delle Opere e quindi area non di sicuro di sinistra e infatti insomma si è un po' spaccata la maggioranza che leggo da Fanpage che ha fatto una pagina proprio dedicata a un articolo a chi è Guido Bardelli da avvocato dei costruttori ad assessore alla casa di Milano. Piace alla Lega non al PD. Già qui vi fa capire come potrebbe essere l'andazzo dei prossimi mesi per la giunta Sala. Guido Bardelli classe 1959 è un profilo tecnico e non politico nella giunta Sala. Già presidente della Compagnia delle Opere di Comunione e Liberazione ha fondato uno studio legale che annovera tra i clienti alcuni tra i maggiori costruttori in città. È la scelta del sindaco che spacca però la maggioranza di Palazzo Marino. Insomma sì anche il PD con buona parte con alcune parti diciamo dei suoi assessori come Giungi D'Amico Romano e Tosoni hanno detto che insomma si rimane stupiti che una figura certamente non riferibile alla sinistra e i suoi valori di riferimento vada a ricoprire un simile ruolo fondamentale nell'amministrazione cittadina che sappiamo essere anche soprattutto un assessorato che non può essere semplicemente tecnico ma che deve essere politico di indirizzo soprattutto cioè quando parliamo di edilizia popolare lì si può fare da una parte quello che fa cassa vende e quindi fai soldi per farne altra oppure per fare altre situazioni oppure dire costruisco di più voglio cambiare le regole per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica insomma sono scelte non solo tecniche ma soprattutto politiche ma così è anche i verdi ovviamente si sono fatti si sono fatti sentire Monguzzi non l'ha mandato a dire nel senso che appunto dice che è in emissibile non possiamo continuare a fare questi regali ad una destra così dice Monguzzi insomma questo è quanto come sempre Sala riesce a farsi sempre tanti tanti amici sicuramente questo è il suo grandissimo pareggio nel farsi tantissimi amici in città Pioli is on fire ah no non si può più non si può più non possiamo più cantarla adesso questa qua perché arrivato Fonseca non c'è più Pioli quindi arrivato Fonseca come facciamo non possiamo più cantare Fonseca is on fire non funziona chissà quale sarà la nuova hit quindi dello stadio quale sarà la nuova la nuova hit della curva del Milan se non potrà essere più na 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 va beh comunque gara Feed from Desire 7 e 51 minuti Crystal Radio Good Morning Milano appunto pensavo un po' mandatemi degli audio su quali potrebbero essere i cori nuovi dello stadio della curva del Milan visto che non c'è più Pioli is on fire perché Pioli is non si dice fired Pioli is on fired non è così quando si licenza qualcuno in inglese you are fired una cosa del genere giusto vabbè comunque non divago troppo sul spot perché potrei dire castronerie lo sapete benissimo che non seguendo minimamente nulla di palle rotolanti non ho la minima idea pensate che ho scoperto due giorni dopo praticamente che avevamo pareggiato e quindi col pareggio all'ottantannomantottesimo passavamo comunque gli europei quindi pensate quanto me ne può fregare comunque andiamo avanti allora 3317853555 continuate a scriverci i vostri whatsapp mi piace questa cosa che oggi con il fatto che il 27 del mese ad alcuni arriva anche la quattordicesima praticamente oggi siete tutti ricchi è l'unico giorno dell'anno in cui vi sentite ricchi perché mi sa che a differenza di quando arriva la tredicesima che sotto Natale avete già sbombato tutto per i regali di Natale qui non avete ancora sbombato tutto per le vacanze perché non dovete ancora partire farvi fuori tutto in birrette e capirigna quindi dovete ancora per oggi per oggi solo per oggi come si dice in questi casi con le telepromozioni per oggi solo per oggi grande offerta massima offerta è il fatto che siete un po' più ricchi del solito poi vabbè domani torneremo nelle nostre tristi viti povere il miraggio di diventare come il grande conte come è che è il conte conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vignolo che appunto aveva così 40 milioni di euro non sapeva cosa farsene e si è comprato il palazzo di via Bagutta 20 voi cosa volete comprarvi con la quattordicesima soprattutto dovete pagare solo i debiti oppure possiamo anche pensare di investirli in qualcosa di meglio che so una vacanza un po' diversa ormai però è tardi ormai è tardi se prenotate adesso secondo me vi si alzano i prezzi e diventate poveri nel giro neanche del fine mese non arrivate neanche a 27 del mese dopo comunque scrivetecelo 33178 53555 dove andrete di bello in vacanza noi domani come sapete chiudiamo la baracca ma il 9 di settembre siamo di nuovo qui con voi a darvi la sveglia mattutina poi non è detto se mi lasciate il vostro numero di whatsapp magari ogni tanto la mattina intorno alle 6 6 e mezza 7 così vi mando un whatsapp dicendo sveglia good morning Milano faccio così se volete gratis non mi chiedo neanche soldi lo faccio così perché vi voglio bene perché al mio pubblico voglio bene quindi voglio di sentirvi anche durante l'estate scrivetemi magari ogni tanto così così quando siete al mare mandateci le foto su whatsapp di dove siete o se state lavorando mandateci le foto e noi vi faremo un incoraggiamento vi diremo di non mollare mai perché ogni mattina a Milano un milanese si sveglia e sa che deve correre soprattutto se c'è proprio dei mezzi quindi ieri insomma sappiamo che avete corso tanto ma oggi invece dai giornata tranquilla il tempo sembra che tenga no eh signora non ci sono più le mezza stagioni è vero è vero però insomma 19 gradi al 27 di giugno una cosa positiva c'è diciamo si dorme la notte avete notato non abbiamo bisogno di condizionatori si dorme la notte tranquilli anzi il lenzolino serve ancora se lasci fuori il braccio magari ti svegli la mattina col braccio anche un po' fresco che non è male andiamo con un po' di musica piccola pausa giornale radio e poi torniamo qui perché sono arrivati anche gli ospiti eh sì perché poi lo sapete noi siamo sempre gli ospiti vengono a salutarci vengono a salutarci sapete chi? Tamara Malleo è arrivata viene qui con noi dopo le 8 qua con noi dopo il giornale radio per salutarci e per darci a chiamare qualche indizio su cosa fare in quest'estate soprattutto per un'estate magari teatrale l'oretta gogi con maledetta primavera quindi sarebbe da chiamare maledetta estate che non arriva in realtà però io vedo fuori della luce del sole ah no non è fuori la luce del sole è Tamara Malleo che è entrata in studio buongiorno Tamara buongiorno Fabio la luce c'è anche fuori te lo dico te lo dico io sono solo buongiorno 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 agli ascoltatori di Cristal Radio ascoltatrici e ascoltatori benissimo si tutte e due di Cristal Radio di Good Money Emiliano grazie per l'ospitalità perché mi piace molto dopo di che dopo di che voi avete mai visto il sole e Tamara Malleo insieme nella stessa stanza? io dico questo è come Clark Kent è super qualcuno vorrebbe non vedere Tamara Malleo in una stanza però vabbè fa niente quindi insomma io il dubbio il dubbio ce l'ho che bello Fabio è bello tra me averti qua mi piace molto posso rubarti due minuti all'inizio proprio perché così almeno lo facciamo alla fine e invertiamo le modalità allora volevo prima di tutto ringraziare Fabio perché perché mi ha fatto fare questa esperienza bellissima di questo viaggio nella radio e qua in questo spazio bellissimo parlando di teatro che è una delle mie grandi passioni quindi sono molto contenta e ti ringrazio ah per finire dice noi qui non ci sentiremo mai più a settembre ci ritroviamo se vuoi io non lo chiedo mai fuori io non lo chiedo in onda così non potete dirmi ah no che palla volevo dirti di nuovo volevo dirti invece sempre se ci saremo perché sai nella vita non si può mai dire e questo fa capire perché poi ci propone certi spettacoli Tamara Valleo ma infatti ma anche oggi parleremo di questo oh bene benvenuta all'estate allora Tamara no estate che dicevamo essere in realtà la stagione in cui il teatro cerca di seminare il più possibile in giro esatto perché appunto i cartelloni sono chiusi diciamo ma ci sono le rassegne estive più o meno sì ci sono rassegne estive ci sono spettacoli estivi nel senso che per esempio io ieri sono andata a Baggio e perché la compagnia Oies in questo momento è in scena con lo spettacolo itinerante in cuffia per scoprire perché loro fanno una serie diciamo così hanno iniziato con gli spettacoli si chiama parchi sommersi hanno iniziato col parco Lambro sono passati al parco nord adesso è il parco delle cave al centro del loro mi viene da dire che effettivamente il parco Lambro e il parco nord spesso sono sommersi o dal Lambro o dal Seveso effettivamente quello di Baggio quello di Baggio si salva in realtà loro raccontano diciamo così l'essere sommersi dall'essere dimenticati in qualche modo dalla città e invece loro cercano di riportarlo di riportare questi parchi alla luce ma quindi lo spettacolo ha a che fare con il luogo in cui viene fatto proprio assolutamente perché loro crearono una storia ma questa storia è nutrita dalle voci del quartiere cioè tutte le persone che vivono il parco in maniera diversa lo hanno vissuto perché per esempio il parco delle cave è un parco che è cambiato molto nel tempo quindi hanno ascoltato le voci di molti uomini e molte donne che sono cresciuti nel parco delle cave quando ancora il parco non aveva le cave diciamo così ed era anche una zona molto pericolosa sì 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 non è stato proprio il massimo esatto e invece adesso ci hanno raccontato ieri che la presenza delle lucciole che non c'è in questo periodo ma fino a fine giugno ci raccontano di quanto sia pulita l'area perché le lucciole vanno solo nelle zone pulite e quindi ci raccontavano questo e devo dirvi che questo viaggio che voi potrete fare fino al 4 di luglio è un viaggio bellissimo perché è anche temporale nel senso che si inizia con la luce piena e si finisce col crepuscolo forse anche un po' di più quindi in realtà si vede la zona di Baggio e del Parco delle Cave mentre il sole ci abbandona e quindi in una trasformazione anche proprio visiva oltre che di racconto e si parte dalla biblioteca di Baggio giusto? il punto di ritrovo e si arriva al centro del Parco delle Cave ecco questo per capire un po' appunto quello che Tamara fa durante la settimana che è in giro a provarle le esperienze che poi ci viene a raccontare qui non è che ci dice andate lì ma mi hanno detto che cioè non è una cialtrona come me che vede le robe dei giornali no io sono una cialtrona ma in realtà è una passione quindi mi piace andare mi piace condividere e mi piace poi raccontare quello che vedo allora su questa passione ci troviamo dopo la prossima canzone perché fuori ronda la bravissima Elisa Galmarini che è molto più brava di me a fare domande sì è molto brava devo dirgli sì mi mancherà tantissimo ha ti ha chiesto da cosa nasce questa tua passione per il teatro e la risposta mi ha lasciato davvero mi ha colpito molto perché non è la solita banalità non sapevo cosa fare mi piaceva esprimere mi piaceva vedere la gente no è molto più profonda come ovviamente non c'era da aspettarselo da Tamara e quindi un po' di musica e poi torniamo con insomma Tamara la passione del teatro da cosa è nata la tua e da cosa può nascere in realtà nelle persone comunque avrai sicuramente parlato coi tuoi simili per intenderci no ok andiamo con un po' di musica welcome to Kingston welcome to the WRTB International no sembrava veramente stare a Kingston Jamaica invece eravamo solo con i neri per caso ma ricordiamo i neri per caso che per noi degli anni insomma di un tempo sono stati noi degli anni di un tempo perché non può dire di che anni è la canzone era del 91 del 91 io sono del 78 negli anni 90 ti stavo dicendo vabbè quindi aveva appena iniziato elementari volevo dirti invece quindi invece niente basta le cantavo tutte 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 anche se sono stonata infatti la canto tutta anche il whatsapp che è appena arrivato al 33178 53555 appunto che ci scrive la canto tutta così immagini mani sul volante non potete fare tecchette tecchette io però venendo qua un po' accantato ferma il semaforo anche con una colonna fia sei in macchina non hai preso i mezzi è perché devo andare poi ah devi andare da altre parti ecco perché dicevamo appunto questa passione per il teatro come è nata in te e come secondo te visto che sicuramente avrai parlato con altri come senti che nasce nelle persone allora questa è una domanda che mi faccio sempre come può nascere la passione del teatro perché soprattutto in questo periodo si parla molto di un problema sul pubblico su chi va a teatro su quanto si va a teatro su chi sceglie di andare a teatro ti dico che non lo so come può nascere la passione io ti dico che io per esempio racconto del teatro perché voglio condividere questa passione e penso che condividendo cose belle storie belle condividendo delle riflessioni profonde che il teatro fa perché è un rito sicuramente può portare qualcuno a non so a condividere questa idea e a pensare che il teatro possa davvero diventare un'abitudine perché perché io stessa ho trovato nel teatro una cosa bellissima secondo me cioè ho ritrovato in molte storie rappresentate sul palco la descrizione a parole di sentimenti che io stessa facevo fatica a riconoscere in me e a trovare le parole per poterle raccontare invece molti spettacoli mi hanno restituito la possibilità di ritrovare in me quella definizione o quella più che altro quelle parole che potessero rendere quei sentimenti reali e lo trovo anche importante per invece delle riflessioni sulla realtà sul contemporaneo andare a vedere degli spettacoli che ci raccontano storie non per forza del presente ma anche del passato ma che ci riportano fortemente a delle riflessioni contemporanee ci spingono a fare delle riflessioni in un luogo protetto perché il teatro secondo me è un luogo protetto è un luogo dove ci può essere grande libertà ma quella libertà deve essere secondo me gestita con intelligenza e moltissime compagnie lavorano perché questo accada per esempio dimmi faccio un aggancio immediato agganciti da sola perché stasera al teatro Franco Parenti ci sarà il debutto della nuova produzione del teatro De Gordi il teatro De Gordi è una compagnia secondo me molto interessante perché perché fa un teatro quasi sempre senza parole e tu dirai ma come tu ami così tanto le parole sì loro creano una drammaturgia fortissima ma in scena poi utilizzano il corpo le espressioni diciamo così del corpo e usano anche qualche parola ma sostanzialmente le loro storie sono storie dove le azioni che compiono raccontano quello che la storia devo dirti che il comune denominatore di tutti i loro spettacoli è la morte ma perché perché ci accomuna tutti effettivamente prima o poi abbiamo tutti a che fa con quello però lo fanno in maniera molto a volte molto dolce sempre con grande ironia e per me il loro spettacolo più bello personalmente si chiama visite ed è uno spettacolo molto malinconico perché racconta la storia di alcuni anziani che si ritrovano in una casa di riposo e ricordano il loro passato in quel passato c'è tantissima storia ma anche il loro presente racconta delle storie e quindi raccontano di un'età che non viene quasi mai rappresentata che è la vecchiaia che viene sempre dimenticato che viene messa da parte perché ci fa paura vederla rappresentata per questo dico che il teatro secondo me è molto potente e se penso al cinema infatti uno dei film che si parla più di vecchiaia è Cocoon dove si cerca di non parlare di vecchiaia effettivamente cioè si va subito così e invece il teatro secondo me deve raccontare anche quello che ci fa paura attraverso linguaggi diversi però ci deve raccontare anche quello perché noi sfuggiamo da questo e invece il teatro ci porta verso quella direzione a volte e stasera appunto loro debutano con Note a margine che è una storia che si svolge all'interno di una intorno a una cassa di un morto dove tutte queste persone si ritrovano e quindi la compagnia dei gordi si ritrova con ognuno con una storia diversa e riflettono su quello che li accomuna ma anche su quello che li differenzia ed è una riflessione loro lo fanno sempre è una riflessione sulla vita sull'esistenza su ciò che siamo e su ciò che vorremmo essere peraltro loro lavorano anche molto sulle maschere e lavorano a livello proprio artigianale costruiscono le maschere e molto spesso nel loro spettacolo è possibile toccare queste maschere loro ci tengono molto che il teatro si ricordi che il teatro è anche un lavoro artigianale e quello non può essere sostituito da nulla e no non c'è intelligenza artificiale che possa fare nulla e neanche stampante 3D in quel caso ricordiamo bene dove e come? teatro Franco Parenti solo stasera noti a margine poi sarà presente lo spettacolo nella stagione del teatro Franco Parenti ah un anteprima un antipasto un aperitivo di stagione ok perfetto assolutamente andiamo ancora con un po' di musica poi torniamo ancora qui a parlare di teatro parlare di insomma tutto quello che dovrebbe diventare come diciamo sempre una nostra abitudine giusto ok qui sempre con Tamara Valleo su Crystal Radio Good Morning Milano la prossima canzone Tamara la dedichiamo a te e zucchero per colpa di chi? eh per colpa di Tamara Valleo che ormai siamo tutti malati di questa bellissima malattia che è il teatro teatro? eh sì magari fossimo tutti in realtà diciamo che ci stiamo provando perché il pubblico a Milano diciamo che il Milano è una città con un pubblico molto che frequenta molto i teatri ed è un pubblico anche molto severo ecco volevo chiedere proprio del pubblico bravo mi è dato l'assist per parlare di pubblico il pubblico del teatro nel senso che sto pensando al pubblico della musica però tu non pensi al pubblico della musica pensi al pubblico di Vasco ne parlavamo poco fa al pubblico di Sfere Basta e quindi molto cioè è quello sì magari ci sono artisti non so tipo se viene in mente Cremonini forse che è un po' più largo e non è proprio così cioè non è lo stato sociale invece sono quelli lì che vanno a vedere sociale con la maglietta di Emergency io sono attraverso sociale se dobbiamo nel senso è quello no infatti il teatro invece è molto più ampio molto più ampio molto più vario rischi che nello stesso spettacolo hai il ragazzo di 15 anni quasi e la signora di 90 ma è quella la cosa più bella perché se ci va la signora di 90 e il ragazzo di 16 ne dico 16 non a caso perché è difficilissimo vedere un ragazzo di 16 anni che vada volontariamente a teatro allora è un grande risultato perché vuol dire che lo spettacolo è uno spettacolo che veramente è una storia universale cioè una storia che può colpire l'attenzione di un ragazzo o di una ragazza molto giovane e di una diciamo così di persone di età un po' più avanzata però il problema del pubblico è un problema reale perché? perché i ragazzi molto giovani cioè quelli che vanno dalla fascia i bambini e le bambine quindi fino ai nove anni diciamo che ci sono degli spettacoli dedicati anche se io ritengo che tutti gli spettacoli belli possono essere rivolti a un pubblico diciamo così di tutte le età però è chiaro che per i bambini e le bambine c'è un'attenzione maggiore a dei temi a un linguaggio che loro possono comprendere visto che hanno meno filtri rispetto ad un adulto e quindi per comprendere una storia devono essere accompagnati in quella storia per ragazzi diciamo così più grandi quindi dai 14 15 anni fino ai 20 per loro il teatro è scuola quindi vanno a teatro solo perché li porta alla scuola e molto spesso a scuola si va a vedere delle diciamo degli spettacoli che delle rotture assurde diciamo nel senso che non sono spettacoli che possono colpire la loro attenzione perché sono trasposizioni dei grandi classici ma fatti in maniera molto tradizionale ultimamente però invece ci sarebbero le alternative assolutamente ci sono molte compagnie che ultimamente ti dico una fra tutti la confraternità di Chianti la confraternità di Chianti con Marco Di Stefano ha portato in scena per alcuni anni una locandiera che era diciamo così inserita all'interno di uno spazio contemporaneo contemporaneo però mantenendo esattamente il linguaggio di Goldoni e devo dirti che c'era una partecipazione molto diciamo vivace del pubblico l'ho visto in una scolastica e devo dirvi che è successo con lui con la sua compagnia ma è successo anche con la locandiera di Andrea Chiodi che per esempio ha portato una locandiera molto vivace tutti che portano la locandiera è pop diciamo che Goldoni si adatta diciamo così molto ad una visione e il protagonista è la Tindoro Granata che è un autore e un artista anche spesso lo nominiamo nei tuoi momenti perché mi piace molto e perché fa un percorso di narrazione teatrale se sei in ascolto appunto sappi che insomma c'è una Tamara Malle a cui piaci molto chissà cerchiamo anche di trovare no no ma io sono molto affezionata a Tindoro perché ha fatto un percorso bellissimo e sta portando avanti un percorso bellissimo per esempio sull'ultimo spettacolo vorrei una voce raccoglie le voci delle donne in carcere a Messina dove lui ha fatto un laboratorio e poi ha deciso che quelle voci dovessero essere ascoltate fuori dal carcere e ha usato Mina come mezzo di come un tramite diciamo così e devo dire che lui fa sempre dei lavori socialmente molto coinvolgenti diciamo così perché crede che dove c'è dove c'è il buio il teatro possa portare la luce che è una cosa che condivido molto con lui dove c'è tinder o c'è luce potrebbe essere anche devo dire la verità che dove c'è il tinder c'è luce e ci saranno poi moltissimi altri progetti che lo vedranno coinvolto poi nella prossima stagione di cui parleremo e quindi appunto ne sentiremo parlare sicuramente siamo ben contenti perché poi ci sono questi nomi queste compagnie che tornano perché fanno davvero delle operazioni molto interessanti molto interessanti devo dirti un'altra cosa per esempio visto che stavamo parlando di quest'estate a me piace molto visitare l'Italia attraverso i festival sì mi avevi detto già mi piace molto sono curioso di sapere le tue tappe perché credo che il teatro possa in qualche modo spingerci a incuriosire il nostro desiderio di vedere qualche altra città che magari già conosciamo ma la possiamo vedere attraverso altri sguardi per esempio è partita da qualche giorno l'estate veronese e nell'estate veronese dove ci sarà al teatro romano diciamo così il quartier generale cioè il centro di molti spettacoli saranno in scena Filippo Dini che è il direttore artistico del teatro del Veneto con due suoi lavori su Shakespeare perché diciamo che il tema principale è Shakespeare anche qua il classico che loro portano in scena con una grande diciamo così con uno sguardo contemporaneo con anche coraggio perché uno dice ancora Shakespeare ma ancora e invece poi e ti dico che il 25 e il 26 di luglio io andrò a vederlo ci sarà un sogno di una notte di mezz'estate quindi un grande classico con la regia di Veronica Cruciani ci sarà Lodo Guensi e Sara Putignano protagonisti del sogno e Paolo Mazzarelli più una compagnia che porterà appunto il sogno a Verona e devo dirvi che sarà una perché Veronica Cruciani è una regista che porta sempre con grande originalità i classici lavora da qualche anno su Shakespeare portando sempre delle grandi novità tu dirai come si porta una novità in Shakespeare? è coraggioso per quello perché appunto il rischio è quello di dire no Shakespeare invece devi cercare di i dettagli in questo caso si lavora molto appunto sulla musicalità che è già del mondo di Shakespeare ma che in questo caso si porta ad una contemporaneità con la presenza uno dei miei film preferiti comunque è Romeo più Juliet che secondo me è una delle più grandi trasposizioni moderne di qualcosa di un classicone e a prescindere da DiCaprio cioè quel film mi piace comunque stamattina siamo un po' un po' malinconici sul passato solo? sentite adesso cosa ti metto invece cosa andiamo ad ascoltarci adesso qui intanto voi a casa prendete carta e penna perché dopo torniamo qui diamo appunto i consigli sull'estate e non è solo uscite le ore calde e bevete tanta acqua ma i festival e i posti dove potete andare a conoscere il teatro anche quest'estate ma magari altri anteprime che poi magari potete ritrovare poi nelle varie cartelloni di stagione quindi andiamo con un po' di canzoni e andiamo un po' adesso con un punto un classicone non l'annuncio neanche ascoltatela sicuramente anzi fate così cantatela tutta se dovete ballare fermate la macchina scendete dal tram no sul tram potete anche ballare se volete magari così trovate qualcun altro che voglia ballare con voi magari chissà è l'inizio di una bellissima storia magari ed eccoci qua luna pop ci siamo proprio buttati negli anni 90 questa pensa che negli anni 90 per un pelo perché 99 sì però quel periodo bello nel 99 avevo che tra parentesi ricordo sempre però così piccola nota che in realtà racconta però una modalità che in realtà non era tanto nostra perché noi non siamo quelli della Vespa sono quelli più di noi quelli della Vespa noi avevamo il bus eravamo quei motorini lì un po' più automatici loro cantavano non piacevano forse è quella c'era quella malinconia di quell'epoca che era tutto spensierato perché alla fine degli anni 90 non è che proprio eravamo così spensierati adesso pensiamo che eravamo spensierati ma in realtà vabbè comunque pensa come stanno messe adesso a proposito prima di continuare ma vogliamo ringraziare Elisa ma sì io lo faccio tutti i giorni però prego bravissima Elisa è bravissima la conversazione con lei è molto interessante e poi c'ha questo sorriso accogliente che è bellissimo infatti mi mancherà mi mancherà mi mancherà ti devo far capire come posso essere a producer per fargli un corso di sorriso accogliente va bene Elisa ti prendiamo per fargli un training ciao Beatrice si può essere anche un uomo ciao Beatrice no no Beatrice sono già chi sarà ho già la mia squadra di settembre Beatrice ma tu scegli le donne perché sono preparatissime posso dire la verità puntuali no posso dire la verità perché sono più svegli dei ragazzi a quest'età dico la verità sono più svegli c'è poco da fare non sono a quest'età un saluto a Federico che adesso arriverà appunto al nostro social media manager però sì sono più svegli cioè i colloqui sono sempre presenti al mattino non si addormentano mai pazzesco la roba lì è pazzesca abbiamo pochi minuti ma vogliamo sapere appunto che cosa dobbiamo fare quest'estate non abbiamo ancora neanche fatto lo zaino la borsa la valigia perché stiamo aspettando le tue indicazioni allora vicinissima appunto l'estate veronese che è ricca di appuntamenti fino a settembre potete trovare lo spettacolo più che vi incuriosisce di più ma per andare un po' più lontano io vi consiglio sempre il Kilowatt Festival Kilowatt Festival Kilowatt Festival da più di vent'anni è l'energia della scena contemporanea si svolge a San Sepolcro che è La terra natia di Piero della Francesca ah ok sì lo sapevo e quindi potete vedere anche alcune delle sue opere ho fatto la pausa sapete Topolino quando fai video che dice adesso bambini ma non lo sapevo neanche io fa la pausa e poi i bambini devono rispondere prima di andarci ah ok San Sepolcro San Sepolcro paesino delizioso che si anima in questa settimana cioè nella settimana in cui vi dico cioè dal 12 al 20 luglio è un festival bellissimo che riguarda sia il teatro che la danza che la performance che spettacoli per un solo spettatore che momenti di grande convivialità è uno dei festival più umani nel senso che è proprio attento Lucia Franche e Luca Ricci che sono i due la direttrice il direttore artistico di questo festival peraltro anima fondatrice del festival stesso peraltro sono anche fondatrici della compagnia Capotrave che appunto è alla diciamo così all'origine del festival del Kilowatt Festival che fa attività tutto l'anno con degli spettacoli molto belli fa una programmazione di Kilowatt tutto l'anno sia a Sansepolcro che in Europa perché fa parte di un progetto europeo e dal 12 al 20 troverete un programma ricchissimo quindi potrete vedere non soltanto la città di Sansepolcro ma anche tutta la valle intorno che è bellissima da visitare ma è una zona pazzesca sta guardando dove è proprio in Toscana al confine con Lumi con le marche una roba dove volete l'anno scorso sono andata a Recanati a vedere la casa di Leopardi e tutta la zona diciamo che ha ispirato Leopardi sempre te mi allegri tutti gli allegroni a me piace Sansepolcro quindi Sansepolcro quindi in provincia di Arezzo 15.000 abitanti si è piccolino piccolino però si anima c'è la scheda qua davanti adesso subito sai come si anima durante il festival bellissimo poi c'è musica c'è un dopo festival ricchissimo e poi c'è veramente ci sono dei momenti di aggregazioni reali perché il festival soprattutto quelli teatrali dovrebbero spingerci a conoscere persone nuove a confrontarci sugli spettacoli a vivere l'umanità giusto sai come si chiamano gli abitanti di Sansepolcro? no non lo so si chiamano Biturgensi adesso posso andare quest'anno al festival e dire ciao Biturgensi un saluto a tutti i Biturgensi qui presenti grazie per colmare le mie lacune che sono tante in questo caso ho fatto la cosa peggio del mondo wikipedia è proprio una cosa che chiunque può fare comunque ci aiuta per colmare le nostre lacune quindi prendendo sempre con le pinze le informazioni che do alla sede da wikipedia comunque va bene quindi Sansepolcro dove possiamo andare da altre allora ce ne sono veramente tantissime c'è anche adesso Sant'Arcangelo che parte la prossima settimana siamo in Romagna Sant'Arcangelo di Romagna esatto Sant'Arcangelo di Romagna quindi anche là diciamo che è un tipo di spettacolo un po' diverso ma trovate appunto tutte le indicazioni e tutti i dettagli sul sito di Sant'Arcangelo che però appunto essendo in Romagna essendo anche in una zona vicino al mare ti dà anche la possibilità di poter andare al mare c'è il castello bello Sant'Arcangelo infatti come si chiamano gli abitanti di Sant'Arcangelo? non li so Sant'Arcangiolesi Sant'Arcangelo di Romagna adesso ho scoperto adesso ho scoperto che su Wikipedia come si chiamano gli abitanti di cioè io adesso questa cosa la vado a vedere in tutti i paesi adesso guarda vediamo vai avanti intanto c'è qualche città vogliamo dire come si chiamano gli abitanti di Baggio? Baggesi quello è facile quello è facile dai sei sicuro? sì controlla? a vero cosa controllo? abitanti di Baggio siamo chiamati Baggesi noi e invece no ma come si chiamano? eh guarda e non c'è scritto per un quartiere? Baggiani Baggiani ma non ci credo dai può essere così vabbè così così so che la Baggina si chiama la Baggina che è la casa si chiama così perché è la sua storia che andava Baggio la sua storia che andava Baggio ma dai Baggiani io continuo a chiamarmi Baggesi ragazzi Baggesi va bene non credo che ne sono tu abbia detto niente quindi baggiano sembra un po' quasi un insulto comunque vedi è perché noi carichiamo le parole di un significato che in realtà in sé non contengono il teatro ci insegna questo è vero è vero a svuotare le parole di un significato che noi gli diamo per restituire invece il significato originale se non andiamo a Baggio non andiamo a Sant'Arcangio tu ti santi tra parentesi Sansepolcro Sansepolcro è vero Baggio c'è Sant'Apollinare Cilent'Art 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 andiamo in Cilento da non confondere col Salento Vittorio Stasi Vittorio Stasi ha creato questo festival molto bello dove il teatro abbandona i luoghi tradizionali cioè quelli proprio teatrali per entrare dentro la natura e quindi gli spettacoli si adattano alla natura perché il set di questi spettacoli sarà proprio Scorci Naturali del Cilento bellissimo e devo dire che ci saranno grandi artisti tra cui Silvio Orlando insomma grandi nomi che Vittorio Stasi Silvio Orlando che ricordo sempre essere arrabbiatissimo con tutta la sua cricca Salvatore perché è l'unico che non ha vinto l'Oscar perché non c'era quindi diceva ma come è l'unico film che non l'ho fatto con voi avete vinto l'Oscar succede a volte è così un po' arrabbiato accade questo e gli altri ovviamente lo prendono sempre in giro ci sta comunque Tamara siamo quasi in conclusione però se ne è ancora uno puoi dircelo ma è così bello stare qua il tempo passa in un lampo noi il 9 settembre siamo di nuovo qua quindi adesso non lo so Elisa c'è il calendario dietro qual è il primo giovedì dopo il 9 settembre vediamolo il 13 il 12 il 12 che è il mio compleanno pure 12 confermi 12 settembre aspetta che sta cercando di tradurre un calendario è un calendario ci sono i mesi i giorni non è difficile allora tratta bene Elisa tratta bene Elisa che abbiamo detto sono mesi diciamo che è prevista non è capace di aggiungere un calendario forse ma non è che non è capace era lontano il calendario non poteva fare due cose comunque 12 settembre 12 settembre il tuo compleanno allora festeggeremo il compleanno insieme a Tamara adesso lo segniamo segnano sul calendario perché mi dimentico come ho fatto come dice che ho fatto col suo compleanno non è vero l'ho tenuto solo a fine trasmissione l'essere offesa perché non l'ho fatto gli auguri prima c'ha un po' ragione ma no ma glielo ho fatto a fine trasmissione si fa l'inizio non alla fine la posta alla fine volevo far salutare guarda che se me li fai alla fine immagino che tu l'abbia dimenticato segniamolo per favore Elisa sul calendario grazie Tamara buone vacanze teatrali per teatri festival si e auguro a tutti e a tutte delle buone vacanze delle buone letture dei buoni spettacoli ma soprattutto di trovare la propria strada che non sia quella definita dagli altri ma la propria strada le proprie vacanze e il proprio modo di vedere la realtà quindi speriamo che tutto questo possa accadere a volte non è così facile e quindi Tamara ma Leo grazie 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano di oggi giovedì 27 giugno sempre qui su Crystal Radio grazie ancora Tamara ma Leo che è stata qui con noi questa mattina grazie ai tuoi consigli a tutte le novità che ci porti ogni volta e alle idee che ci porti appunto per arrivare a far diventare il teatro un'abitudine dopo di noi Ambrogio Curti alle 9.05 dopo il giornale radio con senti questa un'altra abitudine che vogliamo prendere è quella di conoscere la musica ascoltarla sentirla farcela raccontare entrare tra le righe delle canzoni e tutto questo lo possiamo fare tutti i giorni qui su Crystal Radio alle 9.05 insieme ad Ambrogio Curti è meno 24 ore Elisa mancano 24 ore alla fine della nostra trasmissione ormai è un counter un countdown che continua pieno di malinconia e lacrime perché ci dovremmo lasciare e mai più arrivederci no ci rivediamo a settembre le voci che avete sentito sono quelle di Fabio Ranfi Tamara Malleo coaudiate dalla regia la redazione da Elisa Galmarini come sempre pronta ed efficientissima qui e anche domani mattina alle 7 qui con noi quindi ciao a domani la resta ciao a tutti